salve a tutti oggi un piccolissimo video di aiuto richiesto da una mia amica che non sapeva come fare colorare un cerchio tra i due tra il cerchio e l'offset e precisamente qui attorno bene ora cancello e vi faccio vedere andiamo nello strumento cerchio prendiamo e creiamo il cerchio ma può essere anche un quadrato oddio scusate ho lasciato troppo presto allarghiamo un po ok andiamo nella casella offset facciamo offset interno allarghiamo un attimo l'offset e dobbiamo colorare in mezzo quindi selezioniamo tutte e due facciamo tasto destro crea tracciato andiamo sul riempimento e clicchiamo sul colore ed ecco fatto vedete semplicissimo spero di essere stata d'aiuto alla mia amica e con questo video spero di essere stato aiuto a tanti io vi saluto e ciao al prossimo video